Una vettura di carattere che non vuole uniformarsi ai tratti stilistici convenzionali, ispirandosi al mondo delle station wagon dall'animo crossover. Citroën C5X, l'ultima arrivata del brand francese, vuole stupire con le sue forme e convincere con la sua praticità. Niente di già visto, un design caratteristico e un taglio laterale frutto di cinque anni di sviluppo in grado di legarla alla dinamicità e allo stesso modo alla razionalità degli spazi. Ampi passaruota ed uno stile shooting brake definiscono la volumetria, mentre la nuova firma luminosa Ypsilon ridisegna lo sguardo. In Italia la gamma si declina in tre versioni, sei colori della carrozzeria che si possono abbinare al tetto di colore nero a contrasto in opzione, quattro gli ambienti interni e cerchi in lega la 19 pollici su tutta la gamma. Meno rivoluzionato è l'interno, in cui già clienti Citroën si troveranno a casa, apprezzando però il rinnovato reparto tecnologico, che guadagna centimetri negli schermi touchscreen di cockpit e infotainment e l'aggiunta del LED-up display a colori. Praticità e stile vanno quindi a braccetto, riuscendo ad aumentare la sensazione di comfort già ai massimi livelli grazie alla sofficità dei sedili Advanced, vero marchio di fabbrica del brand. Nel processo di continuo miglioramento, su C5X arrivano per la prima volta le sospensioni adattive, sempre orientate ad assorbire al meglio le asperità del terreno, per regalare la sensazione che in Citroën definiscono di tappeto volante. Seguendo la scia dell'elettrificazione, la gamma motorizzazione si dimostra al passo con i tempi, portando, oltre alle due motorizzazioni a benzina, una variante ibrida alla spina, per sfruttare al meglio la praticità di questa Citroën anche nell'ambiente urbano a zero emissioni. Citroën anche nell'ambiente urbano a zero emissioni.